Cosa fai al livello della vita? Con il Center HP. Con il Center HP. Sei una collina che è la Center Linistra, è quello di Bologna. Come lo vuoi? L'uomo? Hai studiato, insomma. Ma ti devo rimandare a settembre. Sicuramente è un uomo che mi faccia ridere. Un uomo che la faccia ridere? Serio? Non lo vuoi? Quello che hai davanti com'è? Che abri i capelli? Meno male. Vuoi attaccare? Che caso dovresti cadere? Ho capito. Ma serve sempre attaccarsi, lo dicono, ecco. Si deve attaccare lei. E con le idee molto chiare. Quello che hai di fronte, il 134, si sta calpando il capo. Ce li hai i capelli terni? Sì, sì, sono tutti naturali. Ci sono pochi? Chi viene? Ah, ok. Speriamo che chi ha mandato il biglietto abbia i capelli. Se no lo rifiuti. Ci sono anche i trappianti, ragazzi. Al limite. O avremo un sorfiore, cosa dici voi? Vabbè, tieni, ti consegno questo messaggio. Io auguro cambi la tua vita. Ha ragione, è vero. Bene, bene. Ragazzi, un uomo con i capelli...